che non riesce mai a verificare, un consumatore di idee, senza che queste idee poi dopo portino un reale dialogo, una reale dialettica tra persone, tra generazioni, purtroppo un paese a pezzi. Ho scelto di leggere da un librino piccolo ma grande, come si dice, di Leonardo Sciascia, che è andato in stampa mentre lui moriva e quindi ormai ha quasi 20 anni, 18 anni, una storia semplice, perché intanto non è affatto una storia semplice e la storia del nostro paese non è una storia semplice. Poi perché Sciascia in questo libro è di una secchezza, di una snellezza letterariamente meravigliose, che forse ci farebbero tanto comodo oggi nell'affrontare i problemi in questa ampollosità, in questa complessità che da un lato è complessa effettivamente.